La marijuana e i disturbi mentali, è vero o no che la marijuana provoca gravi, gravi formi? Il professor Giovanni Battistano c'è chi sostiene tra di noi che la marijuana è seria, veramente. La marijuana è una droga di incapacità di programmare la vita e è una cosa seria, la marijuana porta poi alla... non è affatto vero che questa sostanza... Quindi ci sono prove serie, documentate, scientifiche, il 70-80% sono maschi e... È vero che la marijuana può dare gravi tali, purtroppo è uscito uno studio che dimostra e dimostra in modo serio i rapporti fra studio per cui si può dire che queste sostanze non hanno effetti indesiderati o dannosi. C'è chi, c'è chi, c'è chi, c'è chi...